Come molto probabilmente ben sai, martedì scorso è stato il Patch Tuesday, in cui è uscito l'aggiornamento cumulativo KB5050009, che oltre a risolvere oltre 200 vulnerabilità, tra cui 12 critiche, introduce una serie di funzionalità nuove in Windows 11. E fin qui tutto bene, o quasi, perché subito dopo l'uscita di questo aggiornamento sul nostro canale è successo esattamente questo putiferio. Ebbene sì, molti utenti, molti membri della community hanno riportato questa serie di errori in fase di installazione. Ma tutto sommato, devo dire che questo aggiornamento è un aggiornamento sicuramente da fare, sicuramente utilissimo. Ma allora come dobbiamo comportarci nel caso in cui il nostro pc nel recepirlo faccia le bizze? Ebbene, te lo faccio vedere subito. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo! Ma qual è il miglior modo di cominciare un video, se non con il nostro consueto rituale apotropaico per tenere a bada quelle gran birichine delle divinità del tubo? Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? E allora andiamo subito a vedere in che cosa consiste questo aggiornamento è perché ti consiglio vivamente di installarlo. Ma prima una necessaria precisazione. Ho visto anche io molte macchine di miei clienti generare due tipi diversi di errore in fase di installazione. Tuttavia, questa volta lo zio Bill è assolutamente incolpevole, perché non è l'aggiornamento ad avere qualche difetto, bensì se c'è qualche problema o qualche aggiornamento mancante sulle macchine che devono riceverlo si possono verificare queste difficoltà. Ma facciamo un passo indietro e leggiamo esattamente in che cosa consiste questo update. E a raccontarcelo per bene è proprio la rivista Il Software, che titola così KB5050009 e i suoi fratelli. E sì, perché in realtà si tratta di più di un aggiornamento, come vedremo. Guida al Patch Tuesday Microsoft di gennaio. Nell'articolo leggiamo che, in occasione del primo Patch Tuesday del 2025, Microsoft ha pubblicato e iniziato a distribuire un ampio numero di aggiornamenti di sicurezza complessivamente utili alla risoluzione di ben 209 vulnerabilità, 12 delle quali sono classificate come vulnerabilità critiche, necessitando quindi della massima attenzione da parte di tutti noi per evitare dei grossi problemi di sicurezza a tutti i nostri PC. Ebbene sì, perché a quanto pare ben tre di queste vulnerabilità venivano già sfruttate attivamente da parte di malintenzionati, mentre altre cinque erano già conosciute prima ancora che venissero distribuite queste patch correttive. La cosa che tuttavia mi ha fatto sorridere di quest'articolo è che anche loro precisano che ogni volta che Microsoft rilascia degli aggiornamenti di sicurezza per Windows, così come per tutti quanti gli altri software, nella stragrande maggioranza dei casi non è proprio indispensabile correre immediatamente a installarli tutti. Si può prendere qualche giorno di tempo per studiare la situazione e accertarsi che le patch appena rilasciate non causino qualche problema ai nostri PC. Ma a questo punto scorriamo l'articolo fino alla fine perché, come ti avevo anticipato, vedremo che i pacchetti da installare sono due e quindi oltre al nostro KB5050009 sarà indispensabile accertarsi di aver scaricato anche il pacchetto KB5050505021, entrambi naturalmente per Windows 11. Questi due pacchetti, oltre a portare una serie di correzioni, come abbiamo visto per quanto concerne la sicurezza dei PC Windows, includono anche una serie di aggiornamenti sulle funzionalità che, francamente, come al solito, non considero particolarmente interessanti. Insomma, come avrai già capito, è fondamentale ricominciare a fare gli aggiornamenti e soprattutto accertarsi di avere questi ultimi due di cui abbiamo appena parlato. Ma come ti avevo anticipato, naturalmente anche questa volta non è tutto rose e fiori e lo leggiamo proprio sulla comunità Microsoft. Questo povero utente infatti si lamenta, ho tradotto la pagina in italiano per miglior comprensione di questo problema. Al momento sto provando a installare l'aggiornamento KB5050009 su un desktop Windows 11. Una volta iniziato a scaricare gli aggiornamenti, tuttavia l'aggiornamento che sto provando a scaricare si blocca allo 0% e non va avanti. Dopo un po' ricevo un messaggio di errore che dice che gli aggiornamenti sono falliti e restituisce il codice di errore 0x8007005, codice di errore che mi è stato segnalato anche da moltissimi altri utenti della community. Se tuttavia continuiamo a guardare tutta quanta la pagina e tutte quante le risposte di Microsoft scopriamo che, tanto per cambiare, non hanno individuato alcuna soluzione al problema. Ma noi sì. Prima tuttavia di mostrarti la soluzione ti mostro anche rapidissimamente il secondo codice d'errore che potresti ricevere effettuando l'installazione di questi aggiornamenti che è questo qui 0x800F081F. Non importa quale codice d'errore tu riceva, l'importante è che tu faccia questi passi qui per andare a risolverlo e installare regolarmente il tuo aggiornamento. E allora, come detto, la prima cosa da fare è sincerarci che il nostro PC sia in ordine e quale modo migliore di farlo se non utilizzare lo script creato un po' di tempo fa che ti ho già presentato dal nostro buon Chris, il moderatore del forum e della chat, che si trova sul nostro sito. Per andare a scaricarlo nel caso in cui tu non lo avessi già, la procedura da fare è sempre la stessa. E quindi apriamo il nostro browser e nel motore di ricerca andiamo a digitare Gentiluomo Digitale. Ok, effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Apriamo il sito e ci porteremo nella parte in alto, quella riservata ai download. Aperta la pagina potremo scendere un pochettino più in basso rispetto al solito fino ad individuare questa manutenzione completa by Chris, che potremo scaricare cliccando sul pulsante file download e nel caso in cui non riuscissi a trovarla nessun problema. Ti basterà cliccare su questa lente di ingrandimento e nella barra di ricerca che si aprirà andare a digitare il nome del programma che stai cercando, perché questo naturalmente non vale solo per la manutenzione di Chris, ma per qualsiasi programma ti abbia mai presentato anche nei video precedenti. Io in questo caso clicco sul pulsante file download e aspetto il download di questo file. Eccolo qui. Una volta che lo abbiamo scaricato, quello che faremo sarà un clic sul file che abbiamo appena prelevato e potremo anche chiudere la finestra del browser retrostante che non ci serve più. E a questo punto non sarà nemmeno necessario estrarre il nostro file perché è l'unico file presente nella cartella compressa, ma ci basterà fare un doppio clic, cliccare su esegui per confermare di volerlo lanciare ed accettare con sì che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo. A questo punto l'unico consiglio che ti do è quello di lasciarti guidare semplicemente dallo script e quindi digitare sì seguito da invio o meglio S seguito da invio sulla tastiera ogni volta che ti viene chiesto. Vedrai che le operazioni saranno piuttosto lunghe, alcune si ripeteranno più volte e soprattutto al termine di tutte queste operazioni ti verrà suggerito di riavviare il tuo pc. Fallo senz'altro, aspetta perché al riavvio verrà lanciato il check disk per controllare che sia tutto quanto a posto e in regola e alla fine potremo passare al passo successivo. Ok, abbiamo riavviato il nostro computer ed abbiamo effettuato una manutenzione completa, ma ti ricordo che se avessi bisogno di guardare tutte quante le operazioni descritte nel dettaglio per capire meglio come si utilizza questo script ti lascio linkato qui in alto il video in cui ne abbiamo già parlato. Ma veniamo al passo successivo perché ti ho detto che sì, il computer deve essere in ordine per recepire correttamente questo aggiornamento, ma deve avere anche ulteriori aggiornamenti che tuttavia non sono aggiornamenti di Windows in senso stretto. Si tratta infatti di due framework .NET che sono necessari per la sua corretta esecuzione. Per la precisione stiamo parlando del .NET Framework 9.0.1 e del .NET Framework 8.0.12. Per procurarceli apriamo nuovamente il nostro browser e andiamo a digitare semplicemente .NET 8.0.12. Ecco, ce l'ho qui e apriamo il sito Microsoft, quindi il sito che risponde al dominio .NET.Microsoft.com. Clicchiamo per andare ad aprirlo e nella pagina che si aprirà scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questa voce qui, quella che si chiama 8.0.12.RuntimeDesktop.NET, ovvero la versione che consente di eseguire applicazioni desktop di Windows già esistenti, non quella per programmatori. Scegliamo la versione X64, ovvero a 64 bit, perché Windows 11 è solo a 64 bit. Clicchiamo quindi per andare a scaricarlo e attendiamo alcuni secondi il termine del download, che non è esattamente piccolissimo. A questo punto facciamo un clic sul file appena scaricato, confermiamo nuovamente con Esegui di volerlo installare e clicchiamo sul pulsante Installa. Confermiamo con Sì di voler accettare che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo e in pochi secondi la prima delle due estensioni Runtime sarà stata installata. Passiamo quindi alla seconda e per farlo nel motore di ricerca oppure direttamente nella barra del titolo come farò io, digiteremo nuovamente .NET Framework, ma in questo caso 9.0.1. Ok, effettuiamo la ricerca, facciamo riferimento allo stesso sito dell'altra volta che naturalmente aprirà tuttavia un'altra pagina e quindi sempre .NET .Microsoft.com e una volta aperto il sito scendiamo nuovamente fino ad individuare questa versione 9.0.1 Runtime Desktop .NET e scegliamo nuovamente la versione X64. Anche in questo caso attendiamo il download e seguiamo esattamente la stessa identica procedura che abbiamo seguito per il file precedente. Una volta terminata la nostra installazione potremo finalmente procedere con l'installazione di questi due aggiornamenti. Ho testato questa procedura su circa una ventina di macchine di miei clienti su cui non c'era veramente verso di installare gli ultimi update di Windows. Ebbene, devo dirti che nel 100% dei casi il problema è stato risolto, ma ormai abbiamo capito che le vie della community Gentiluomo Digitale sono praticamente infinite e quindi nel caso in cui la tua macchina fosse ancora recalcitrante, nonostante tutte quante queste procedure, non esitare assolutamente a comunicarmelo nei commenti oppure se preferisci a scriverlo nel forum o nella chat e vedremo di risolvere anche il tuo problema. E anche questa volta se zio vuole ce la siamo scansata, ma c'è una precisazione che volevo fare, ovvero che se sei stato molto attento nel video di domenica scorsa mancavano i consueti ringraziamenti che faccio a chi si abbona, a chi rinnova l'abbonamento oppure a chi invia dei supergrazie. Ebbene, non si è trattato di una dimenticanza, ma semplicemente di un cambiamento dell'ultimo momento in una scaletta dei video che volevo fare. E quindi i ringraziamenti sono semplicemente posticipati e saranno ulteriormente integrati con tutte le ultime novità a domenica prossima. Quindi se hai inviato un supergrazie, non lo hai inviato, ti sei abbonato, non ti sei abbonato, non importa niente, guardati il video di domenica prossima. Ma veniamo a noi perché proprio a proposito di ringraziamenti ce n'è uno quest'oggi importantissimo da fare e cioè quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento. Alla prossima!